Successo di prestigio per l'Amen Scuola Baschietta Rezzo che dopo aver messo in difficoltà la capolista Cecina al Palace Porta Estra è riuscita nell'impresa a dibattere la stosa Virtus Siena in trasferta. Un inizio equilibrato con le due squadre che si rispondono canestro dopo canestro fino al 18-17 con cui si chiude il primo quarto in favore di Siena. Nel secondo parziale la stosa mette la testa avanti, l'Amen però non si disunisce anzi riesce a replicare un contro break di 13-0, lancia Yamaranto sul 30-23. Qualche imprecisione permette alla Virtus di riavvicinarsi ma la sba alla fine va a riposo sul più 4 al rientro dagli spogliatoi. Come è accaduto nel primo tempo Yamaranto non mollano e si va all'ultima sirena sul 54-49. Ultimo quarto carico di tensione, Rossi segna 4 punti di file, Pelucchi firma un appoggio da sotto molto prezioso. Le squadre si alternano in lunetta e alla fine il tabellone premia la sba 69-65, due punti che fanno risalire in classifica Yamaranto che sabato prossimo ospiteranno al Palace Porta Estra la rivelazione e Alto Pascio secondi classifica a quota 8 punti.